A meno di un miracolo, a settembre ci saranno decine e decine di migliaia di cattedre scoperte, come sempre peraltro. I sindacati del comparto parlano di almeno 150-160 mila posti che saranno attribuiti a supplenti, senza considerare che su diverse classi di concorso, soprattutto in alcune regioni, non esistono docenti abilitati. Finirà così che i dirigenti scolastici dovranno fare i salti mortali e fare fuoco con la legna a disposizione, con il rischio, anzi forse con la certezza, di non riuscire a garantire la qualità dell'offerta formativa. Per un governo che aveva garantito di eliminare la supplentite nel giro di pochi mesi non è certamente una bella carta di presentazione. I problemi d'altronde sono tanti, tutti di difficile soluzione. Per esempio i 20-25 mila posti che si libereranno a seguito dei pensionamenti per la quota 100 non saranno disponibili per le assunzioni per motivi tecnici. L'Inps infatti non è riuscito a concludere le operazioni in tempo utile. Tanto che persino la deputata del Movimento 5 Stelle, Lucia Azzolina, è dovuta intervenire nei giorni scorsi alla Camera per chiedere formalmente al Ministro Busetti di fare in modo che la metà dei posti dei pensionamenti venga utilizzata per la mobilità e l'altra metà per le assunzioni. Dopo quasi tre mesi di attesa, forse nei prossimi giorni potrebbe arrivare un decreto legge per dare avvio al concorso riservato e ai pass, oggetto dell'intesa stipulata il 24 aprile fra il Presidente Giuseppe Conte e i sindacati del comparto, sempre che il Movimento 5 Stelle non si metta di traverso in Parlamento al momento della conversione in legge del decreto. Resta poi ancora non del tutto risolto il problema dei diplomati magistrali che quest'anno hanno preso parte al concorso straordinario e ai quali era stato assicurato che sarebbero rimasti al loro posto, in modo da garantire la continuità didattica. Ma a poco più di 50 giorni dell'avvio dell'anno scolastico non è ancora chiaro come questo obiettivo potrà essere raggiunto. Busetti per parte sua si mostra tranquillo e ripete che ci saranno i concorsi. Dimentica però di aggiungere un piccolo particolare, cioè che le graduatorie dei concorsi potranno avere effetto solamente a partire dall'anno scolastico 2020-2021. Quindi a settembre 2019 i problemi resteranno tutti. Vi diamo appuntamento sempre su questo canale e sempre nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. www.tecnicadellascuola.it 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 www.tecnicadellascuola.it